ahahahahah ehm senti quindi quella cosina che ci avevamo detto come... non ti preoccupare la pratica si sblocca la prossima settimana quando ci sarà il voto al senato non ha capito la notte dopo al senato noi votiamo l'emendamento per la spesa militare per lei? spese militari in cambio loro votano l'emendamento per la spesa della sanitaria non ha capito sull'ultima le spese sanitarie